3 minuti, assalto a 5 soccati, poi cambiamo i contendenti che facciamo tirare nella scuola dell'attività. I guardi, pronti, a voi! Pronti, alto, conferma, si, toccato lui, si, toccato, si, si, tengo un maniera da fare, I guardi, pronti, voi due mi dovete solo dire 6 minuti, basta, ognunque solo 6, pronti, a voi! Alto, toccato, no, niente, guardia, pronti, a voi! Alto, toccato, no, niente, guardia, pronti, guardia, pronti, guardia, pronti, guardia, pronti, guardia, A voi! Alto! In guardia, la scuola, la scuola, la scuola, in guardia, pronto, a voi! Alto, a destra, bocca, si, toccato, alto, un momento. E' segnalata la luce verde? Era la luce verde? Lo metto io! Ah, ok, no! Io ho visto il po' eh! La luce verde segnala il colpo su questo tiratore. Ho sbagliato io perché ho guardato la scuola. Ho visto anche la scuola. No, no! Devo andare in guardia! In guardia! Perché è lui che ha toccato lui. Però io ho premuto di default. E hanno l'altro! No, bene! C'è, no! Molto spesso! È molto spesso! È molto spesso! È molto spesso! È molto spesso! In guardia per voi il piedeo! No! Il guardia, frappello! Alta! Adrestra, tocca, si, si, punto adrestra. Passivista, in guardia, pronti, a voi. Alzo. Errore mio, giusto? Sì, sì. Errore mio? No, no. Punto, adesso. In guardia, pronti, a voi. Alzo. Sì, sì, punto, in inizio. Eh ma, eri sei riappettato. Se accetta la brucia rossa, prova un attimino, passante. Sì, se accetta la brucia rossa, tu sei riappettato. In guardia, pronti, a voi. No. Sì. In guardia. Pronti? A voi. Pronti? Grazie a tutti. Allora, no, no, in guardia, se qualcuno esce, se esce con tutti e due i piedi è toccato, meglio, ha la sanzione in realtà, poi quella è una cosa da appena... No, perché a quello c'è preso lì e do l'ipotesi di sanzione, poi vi dovete confermare se è uscito dalla mano. Allora, in guardia, pronti? A voi. Allora, sì, sì, comprezzo, punto, sinistra, in guardia. Allora, pronti? A voi. Allora, sì, 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 no? Allora, in guardia, pronti? A voi. Allora, in guardia, pronti? A voi. Allora, in guardia, pronti? Grazie.